A regà, a regà io ve lo dico chiaramente, ora io non è cattivera, non voglio giudicare un giocatore da un paio di palliste, ok? Ve lo dico chiaramente, ho un ritardo mentale e porco di no, ve lo dico chiaramente, sono de mente, ma la Roma sinceramente fa caccare se parla di dove prende sto camso Per prendere quello che a me pare sinceramente il nuovo Paul Lopez, sto parlando ovviamente di sto camso A me sinceramente piace buttar me lo in der culo, perché ci fa capire anche quanto è la dimensione di un calso Quindi ora, la Germania non la vedo tra le favorite, però se vincesse anche l'europeo Grazie a tutti